Esistono diversi metodi per ricavarsi delle tavole partendo da un tronco e, a seconda di quello utilizzato, il legno si deformerà in maniera più o meno accentuata. È importante quindi conoscerli per sapere quali caratteristiche ricercare in una tavola quando si va ad acquistare del legname. Oggi parliamo di questo. Sei pronto? Vamonos! Ad un occhio inesperto, tutte le tavole potrebbero sembrare uguali. Osservandole però bene di testa riusciremo ad avere molte informazioni utili per risalire a quale parte del tronco apparteneva alla tavola. Proprio in quest'ottica è importante conoscere i vari tipi di tagli per semplificare la fase di riconoscimento della posizione della tavola all'interno del tronco. Partiamo dal presupposto che una pianta dovrebbe essere abbattuta in inverno quando la sua attività vitale è praticamente nulla. I succhi nutritivi in circolazione sono in quantità limitata e quindi abbiamo le migliori condizioni di probabilità che il legno poi nel futuro non si alteri. Detto ciò partiamo con l'analisi del primo taglio, quello tangenziale, che probabilmente sarebbe quello che una segheria vi proporrebbe se voi gli portaste un tronco. Detto tangenziale perché i tagli avvengono in maniera tangente agli anelli di accrescimento e quindi in questa maniera. Vantaggi. Questo è sicuramente il metodo più veloce di tutti da realizzare e al tempo stesso che ci permette di ricavare delle tavole di maggior larghezza e spessore. Qui ho fatto una X perché la zona del midollo va scartata in quanto punto di grande debolezza della tavola. Svantaggi. Questo è il metodo peggiore utilizzabile perché è quello dove gli effetti dell'imbarcamento si manifestano al massimo. Infatti tagli attraversano zone di diversa maturazione del legno. Possiamo pensare che qua al centro c'è il legno più vecchio, detto durame. Tutto attorno invece c'è l'alburno che è quello dove i vasi linfatici sono più presenti. Ciò porterà l'aria, la temperatura e tutti gli agenti che concorrono all'essicazione delle tavole ad agire in maniera diversa a seconda del punto di maturazione del legno, favorendo quindi l'imbarcamento. Un metodo sicuramente più ragionato è quello del taglio radiale dove inizialmente si parte tagliando in quattro parti il tronco, dopodiché per ogni quarto si effettano tanto i tagli in questa maniera. È un metodo che rispetto al precedente cerca di minimizzare gli effetti dell'imbarcamento, ciò si può notare già da come sono disposti gli anelli di accrescimento all'interno delle tavole e infatti sono in maniera il più possibile parallelo l'uno all'altro. Sappiamo infatti che gli anelli di accrescimento tendono a raddrizzarsi, quindi in una tavola dove la curvatura di essi è molto accentuata il fenomeno dell'imbarcamento sarà più accentuato rispetto invece a una tavola dove gli anelli di accrescimento sono disposti in maniera verticale. Tra i vantaggi di questo metodo c'è quindi il fatto che cerca di minimizzare gli effetti dell'imbarcamento, tra gli svantaggi invece troviamo il fatto che sicuramente con questo metodo ricaveremo delle assi di larghezza minore e inoltre avremo maggiore spreco di legno perché entrambe le coste della tavola andranno rettificate. Questi due ultimi tagli che analizzeremo sono praticamente una combinazione di quello che abbiamo visto in precedenza. Il primo è il taglio radiale a spessori misti che sostanzialmente perfeziona il taglio radiale semplice cercando quindi di effettuare dei tagli dove gli anelli di accrescimento sono il più parallelo possibile l'uno all'altro. Le tavole ricavate con questo tipo di metodo spesso vengono utilizzate per lavorazioni particolari dove è particolarmente importante la stabilità del legno come ad esempio la creazione di strumenti musicali a corda. È un metodo quindi che minimizza ulteriormente i fenomeni dell'imbarcamento a fronte però di uno spreco di legno maggiore e tra l'altro permette di ricavare delle assi molto varie in spessore e larghezza. L'ultimo metodo analizzato oggi è il taglio di quarto ventaglio anche in questo caso si cerca di minimizzare come nel metodo precedente gli effetti dell'imbarcamento. In particolare vengono alternati tagli in verticale a tagli in orizzontale cercando il più possibile di ricavare delle tavole con gli anelli di accrescimento paralleli. Per oggi è tutto, le informazioni che ero chiuso all'interno di questo video le ho presi direttamente da questo libro di cui ti ho già parlato in un video che trovi qua tra le schede. Se vuoi approfondire le tematiche e avere anche altri spunti riguardo la lavorazione del legno i riferimenti di questo libro li trovi in descrizione. Ti lascio qui un video interessante sulla lavorazione del legno, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. In seguito i sogni e hasta luego! Ciao!